Buonasera a tutti, siamo qui in Biamonte Bello 28 ad Ingenio e siamo insieme alle ragazze del servizio civile che tra poco faranno un freestyle. E che scopo ha questa performance che sarebbe per fare? Lo scopo è quello di sensibilizzare questa giornata, in quanto oggi è giornata contro la violenza sulle donne, con questa piccola coreografia abbiamo messo in scena la forza che hanno le donne nell'affrontare un percorso di rinascita dopo aver subito una violenza sia fisica che psicologica. E quindi abbiamo cercato di mettere su un piccolo spettacolo che possa dare forza alle donne che ci guarderanno, comunque è un breve messaggio. Come mai avete scelto proprio la danza come modo? Abbiamo scelto la danza perché io ballo da circa 12 anni in danza in carrozzina e mi è stato proposto a luglio un laboratorio di danza in carrozzina. Quando poi mi è stato chiesto se volevo portare un pezzo il 25 novembre abbiamo pensato con queste ragazze dell'associazione e anche del servizio civile di creare una vera e propria coreografia e appunto mi è stata anche la possibilità di insegnare e di mettermi alla prova in questo campo. Bene, per oggi è tutto, tra poco assisteremo alla performance e a presto. Grazie a tutti.